Buona giornata, allora siamo insieme per parlare di sport, di sport che si realizza naturalmente in scenari molto affascinanti, molto belli, facilmente raggiungibili, all'aria aperta e soprattutto la cosa molto importante per tutti, veramente per tutti le tipologie di persone che hanno varie problematiche oppure non le hanno e che fa molto molto bene alla salute. Ma in che termini praticarlo? Quali sono le peculiarità? Dove soprattutto svolgerlo? Quali sono le iniziative che possono coinvolgere molte persone? Come si svolgono e naturalmente quanto? Beh, ne parliamo insieme ai nostri esperti, ai nostri ospiti in studio. Ve li presento subito. Ben arrivata Daniela Vecchiato, responsabile marketing Folgaria Ski, grazie ad essere qui con noi. Ben arrivato anche Tommaso Balasso, direttore tecnico scie di passione, nonché campione parolimpico. Grazie anche a lei ad essere qui. Tra l'altro a fianco a me c'è proprio questa scie di passione per vivere la neve in tutti i sensi abbattendo ogni barriera. Questo è estremamente bello perché limitare la possibilità di godere di scenari affascinanti, belli, eccetera, soltanto perché ci sono dei problemi di carattere fisico, a volte anche psichico di un certo genere, degli handicap, tra virgolette, è peccato. Invece questa è diventata un'opportunità. Più che un'opportunità direi che oggi a Folgaria, grazie a scie di passione, è diventata una realtà. Una realtà che ha un'associazione operativa con una sede all'Alpe di Folgaria Coe, una pista che Folgaria Ski ha riservato e realizzato esclusivamente per i disabili. Quindi un anno fa questo era un sogno, oggi è una realtà. Devo dire che la scorsa settimana in Prato della Valle, sulla pista artificiale di Ski Magic, molti disabili hanno potuto provare e approcciare per la prima volta il mondo della neve. Nella città di Padova. Nella città di Padova. Quindi in città, in condizioni di tempo non nevose assolutamente. Con uno scenario bellissimo che è quello del Prato della Valle, Folgaria Ski insieme con la Fisi Padova e Ski di Passione ha portato in città questo progetto legato alla disabilità, ma più in generale legato al riavvicinamento di un'utenza trasversale a quello che è il mondo della neve. Nel caso poi di Folgaria, una montagna vicina da non crederci perché Folgaria in realtà si trova a un'ora e un quarto dalla città di Padova, ha un comprensorio di 100 chilometri di piste a cavallo tra il Trentino e il Veneto e quindi vogliamo dire è una montagna anche un po' veneta e quindi anche un po' padovana. Quindi una destinazione facilmente raggiungibile veramente per tutti. Ecco qui stiamo vedendo appunto questa, si chiamava la simulazione comunque di una realtà montana. In questo caso le persone che erano coinvolte erano cittadini che potevano provare cimentarsi o c'erano anche persone con disabilità? Allora ci sono stati entrambi quindi con grande soddisfazione, ci sono stati bambini, adulti, in qualche caso sapevano già sciare, in altri casi era la prima volta, quindi che si sono trovati a passare in Prato della Valle, hanno visto la pista, hanno voluto provare, in realtà hanno provato anche dei ragazzi ipovedenti e dei ragazzi in carrozzina. E quindi è stata veramente una grande soddisfazione perché hanno sentito questa chiamata e sono venuti per vedere se effettivamente era vero, se effettivamente c'era un personale qualificato, perché questa è la cosa importante. Qui non è un esperimento, qui c'è un'associazione sci di passione che è fatta da maestri giovani, preparati, specializzati e soprattutto con grande, grande passione, perché è un'attività nella quale o ci si mette il cuore oppure alla fine rimangono parole. Ah, infatti, assolutamente. Ecco, cerchiamo di capire che tipo di impegno richiede, cosa vuol dire dedicarsi a questo sport invernale per chi ha delle problematiche, e che tipo di problematiche? L'obiettivo fondamentale di sci di passione è quello di far divertire le persone e quindi cercare di metterle nelle condizioni di usufruire di strutture molto accessibili e di strumentazione adatta. Ad oggi purtroppo i materiali sono particolarmente costosi e quindi come associazione abbiamo deciso di fare un investimento e di creare il primo noleggio italiano di attrezzatura appunto per i diversamente abili. Sì, 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 assolutamente dedicata con monosci, dual sci, quindi andiamo a abbracciare tutte le tipologie di disabilità, anche quelle più gravi, perché quando per esempio andiamo a parlare di tetraplegia, che spesso viene vista come una disabilità particolarmente grave e che quindi diciamo non permette di praticare determinati sport, da noi invece lo si può fare, perché abbiamo appunto dell'attrezzatura che permette di sciare con l'ausilio del maestro. Quindi acqua e i monosci che potete vedere nel nostro roll up vengono applicate dietro delle barre che permettono di manovrare questo attrezzo grazie appunto ai nostri maestri che sono tutti quanti specializzati nell'insegnamento appunto ai diversamente abili. Che tipo di impegno fisico richiede anche per l'apprendimento poi di queste tecniche, l'utilizzo di questi strumenti e dopo vedremo anche l'impegno economico, se è rilevante oppure no? Ma sicuramente fisicamente a me piace parificarlo a quello dello sci, quindi comunque è un'attività fisica ed è bello che sia così perché spesso... Quindi è proprio uno sport che fa bene alla salute. Assolutamente sì, spesso si parla di disabilità e quindi si creano automaticamente delle barriere o dei limiti, lo sci e i sci di passione non vuole farlo. Questa è un'attività sportiva quindi richiede un gesto atletico che però è adattato quindi alle varie problematiche e alla tipologia di disabilità. Ecco è necessario però avere delle piste dedicate, questo sì può essere pericoloso perché se già quando vediamo lo snowboard e sciatori insieme nella medesima pista a volte c'è davvero un po' di timore, magari per spesso se ci sono bambini eccetera, in questo caso ci devono essere strutture dedicate come quella che è stata creata a Folgaria. Esatto, beh Folgaria ha il primato anche di aver creato quest'anno proprio una pista primi passi dedicata alla disabilità e quindi sarà un utilizzo esclusivo nostro. Poi per quanto riguarda invece i livelli superiori le persone possono comunque tranquillamente andare a sciare sulle piste dei normodotati. Io ho avuto la fortuna di fare quasi dieci anni in squadra nazionale disabili come atleta guida di un ragazzo ipovedente e scievamo tranquillamente in qualsiasi pendio, in qualsiasi comprensorio o tipologia di pista. Ecco, trovare maestri preparati non è una cosa semplice, bisogna essere iscritti in un'associazione, come funziona? Per quale magari coloro che hanno questi problemi e volessero mettersi a contatto, praticare uno sport, approcciare ed essere seguiti naturalmente? Assolutamente, la prima discriminante è che siano maestri di sci, quindi devono aver superato nei vari collegi di competenza la selezione, aver fatto un corso per diventare maestri e il secondo step è aver fatto dei corsi ad hoc proprio per l'insegnamento dei disabili che nel caso di sci e di passione vengono fatti da Snow Sports Academy che ha sede a San Marino. Quindi una realtà fuori dai confini che da tempo e percorrendo anche i tempi si è impegnata in questo fronte, per quanto è a mia conoscenza so che stanno andando ancora oltre per concretizzare la figura del maestro di sci disabile. Cioè che cosa vuol dire questo? Che un maestro che lo era in condizioni normali e poi per un incidente, un accadimento di vario genere non ha più potuto fare il maestro perché si è ritrovato ad essere disabile, potrà attraverso un percorso formativo ritornare a fare il maestro ai disabili. Questo significa dare un'ulteriore opportunità per delle persone, quali i maestri di sci, per i quali sicuramente è un lavoro ma è anche una passione. Quindi il venir meno di questa opportunità per loro è particolarmente difficile. Assolutamente. Probabilmente già con il prossimo anno potremo avere anche questa figura di sci, forse sarà anche più facile il dialogo perché a quel punto sono persone che si sentono molto vicine nella difficoltà. Però devo dire che da quello che abbiamo visto con sci e di passione l'approccio e la vicinanza ai maestri di sci di passione è molto immediata proprio perché questi ragazzi hanno il background culturale e professionale che gli permette di rendere tutto facile. L'anno scorso tra l'altro proprio per fare un primo test c'è stata la prima giornata a Folgaria dedicata alle scuole, agli istituti scolastici dove in questa giornata i ragazzi normodotati e i ragazzi disabili hanno sciato insieme. Quindi a dare dimostrazione che si può sciare tutti insieme e la cosa che poi è emersa per i neofiti, quale posso essere io un po' inaspettata, è che quello che si sente in difficoltà è il normodotato, non è il disabile. Quindi il percorso non è motivare il disabile a fare delle cose ma far capire a quelli che si ritengono normodotati in questo termine che in realtà non esistono differenze, non esistono nella neve ma in realtà non esistono in nessun contesto nel momento in cui l'approccio mentale è quello di essere veramente uguali indipendentemente da tutto e da tutti. Ma soprattutto perché poi penso anche per chi lo insegna, una persona che non ha problemi fisici, che approccia a uno sport è allo stesso livello di chi ha dei problemi e lo approccia con le strumentazioni adatte e congruose, i timori sono gli stessi, le ansie, le insicurezze, anzi a volte c'è minore impegno. Assolutamente sì e soprattutto sono veramente curioso di vedere quando Mauro, che è il ragazzo che sta adesso facendo questo corso di specializzazione, scorso maestri scusate, che è in carattina, potrà... San Marino e la formazione di San Marino rientra all'interno di ISIA che è l'ente che rappresenta tutti i maestri di sci del mondo. Noi abbiamo l'opportunità di farci parte e abbiamo a recente riunione delle varie associazioni, abbiamo proposto questo progetto pilota e se qualcuno si stava muovendo, ma diciamo siamo un po' i primi che abbiamo veramente codificato una didattica e quindi appunto sarà bellissimo vedere Mauro che è in una determinata condizione e quindi in carrozzina poter insegnare a un altro ragazzo che fondamentalmente sente le stesse cose che sente Mauro e sicuramente avrà dei risultati incredibili. Vorrei spendere due parole a proposito di Snow Sports Academy perché è un'accademia di maestri di scelta avanguardia in quanto focalizza tutta la didattica sulla persona, quindi sulla persona con i propri bisogni, con le proprie motivazioni e questo secondo me si rilaccia molto bene a quello che poi sono le problematiche che riscontriamo con la disabilità. Quindi ho notato che i maestri che escono da questo tipo di formazione sono poi molto vicini come forma mentis a poi l'approccio con il diversamente abile. Quindi questo è estremamente interessante e anche importante secondo me. Allora adesso vorrei un po' descrivere perché normalmente quando parliamo di località sciistica dove si realizzano dei progetti molto importanti e tutto è bello anche entrare in queste realtà, scoprirle, descriverle bene in modo che si possa comprendere questo comprensorio, come è cresciuto, come si è modificato eccetera. Prima di far questo andiamo in pubblicità così dopo facciamo un bel discorso completo e non ci dobbiamo interrompere. Pochissimi minuti per ritorniamo insieme.